Buonasera a tutti, ben trovati Chaksa Meach, visto che stasera è l'Agba Omer prima di cominciare mettiamo come di consueto un paio di monete in Zedaka Alessandra Riem, buonasera, ben trovati a tutti stasera parleremo di due di due argomenti visto che pochi giorni fa era Pesach Sheni e stasera, oggi era l'Agba Omer due date importantissime nel nostro calendario perciò stasera cercheremo di parlare di entrambe le feste e cercare di imparare il più possibile questa lezione, come l'abbiamo scritta la vorrei dedicare a due persone Esther Terracina non ho fatto caso dei nomi perché vanno sempre veloci però questa lezione è dedicata a lei e a suo marito e poi a Stefania Episen che ormai ci segue da tantissimi anni e la dedichiamo alla sua mamma che proprio stasera è la ricorrenza della sua ripartita Carla Bat Beatrice Giustina possa la sua anima salire in alto e mandare tante benedizioni a Stefania per continuare nella sua vita e nella sua crescita spirituale sempre sempre di più come dicevo questa settimana abbiamo avuto Pesach Shenni Pesach Shenni è brevemente il secondo Pesach come mai c'è un secondo Pesach? quando gli ebrei stavano per uscire dall'Egitto se vi ricordate abbiamo scritto tante volte che loro dovevano portare il sacrificio pasquale ogni casa, ogni famiglia doveva portare un capretto in casa tenerlo quattro giorni e poi dopodiché doveva fare il taglio rituale la scecità e fare un sacrificio per Hashem dall'anno dopo in poi dell'uscita dall'Egitto è rimasto che gli ebrei dovevano ogni anno fare questo sacrificio in ricordo dell'uscita dell'Egitto il sacrificio famoso pasquale noi sappiamo benissimo che quando una persona all'epoca quando c'era un santuario una persona se era impura ovvero per esempio uno dei modi di come poteva essere impuro era quando ha avuto un contatto con un cadavere allora questo lo rideva impuro per tutto a tempo finché lui si purificava andava nel micro e quant'altro allora cosa succede? succede che l'anno dopo quando loro dovevano fare il sacrificio pasquale un gruppo di ebrei erano impuri perché appunto avevano avuto contatto con le salme dei due figli di Aaron se vi ricordate Aaron perde i due suoi figli che erano due grandi e allora questo gruppo di persone che avevano si erano preoccupati di 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 come si dice di seppellirli di fare tutte le pratiche delle cerimonie che si fa nella cultura allora cosa succede? loro sono diventate impure nel frattempo arriva Pesach e loro non potevano portare il sacrificio perché? perché erano impuri cosa fanno? vanno da Mosè e semplicemente si lamentano e dicono perché perché noi per dover fare una mitzvah di avere seppellito due zedekim adesso dobbiamo rimetterci che non possiamo fare il sacrificio pasquale non è che dopotutto non è colpa nostra che siamo impuri la Torah dice così però noi non vogliamo perdere una mitzvah così importante che è una volta all'anno di fare il sacrificio pasquale noi non troviamo sia giusto che dobbiamo fare a meno di questa mitzvah cosa succede? Mosè non sa rispondere e chiede a Dio dice Dio cosa facciamo? allora Dio viene fuori con una nuova legge che è una cosa fuori da ogni regola della Torah noi sappiamo che la Torah dice avarsmano batal korbano ovvero quando c'è un sacrificio che si fa in un certo momento della giornata o in un certo momento della settimana o dell'anno che sia se passa l'orario o il momento del sacrificio non hai più possibilità di fare sacrificio per esempio Shabbat per fare un esempio noi abbiamo un korban un sacrificio che si chiama Musaf allora se uno di Shabbat non ha fatto quel sacrificio non può arrivare domenica e dire ah ieri ho dimenticato di fare sacrificio lo faccio oggi o lo fai nel momento prestabilito o hai perso il momento hai perso il carpe diem e questa è una legge della Torah qua vediamo che quando Mosè parla a Dio e dice questi ebrei stanno chiedendo si lamentano che non vogliono perdere la mitzvah allora Dio fa un grande cambiamento alla regola della Torah e dice di loro che da ora in poi ogni anno questo diventerà una regola per tutti non solo per loro che una persona se arriva Pesach e lui è in stato di impurità allora lui potrà fare lo stesso sacrificio esattamente un mese dopo cosa che come dicevamo poc'anzi è contro ogni regola della Torah ma Dio quando ha visto la sincerità di queste persone che veramente non volevano perdere questa grande mitzvah che era una volta all'anno veramente erano amareggiati e dispiaciuti dal profondo del cuore e ha detto perché Mosè noi vogliamo fare questa mitzvah perché non è giusto allora Dio ha ascoltato le lamentele del loro cuore ha sentito la sincerità delle loro parole e ha cambiato la regola della Torah perché per premiare queste persone che non hanno detto vabbè non possiamo fare siamo impuri allora non lo faremo no hanno fatto di tutto per ricevere da Dio la possibilità di fare questa mitzvah e alla fine ci sono riusciti questo questa idea di Pesach città tanti insegnamenti uno è l'insegnamento basilare molto chassidico che è un po' la filosofia del Rebbe è non è mai tardi non esiste una situazione persa molte volte una persona ha intrapreso una certa via un certo modo di vivere che magari non è consone alla Torah e al Mitzvot magari va al contrario proprio proprio al contrario di quello che Hashem chiede allora la persona dice ma tutta la vita io cosa ho fatto ho fatto ho vissuto in modo così e adesso che capisco che ho sbagliato come potrò mai tornare a Dio come potrà Dio mai perdonarmi questa storia ci viene a segnare che non ti preoccupare non è mai tardi Dio ti dà una seconda chance se Dio ha dato opportunità a queste persone di portare un sacrificio un mese dopo cosa che non esiste nella regola della Torah ma Dio l'ha fatto per premiare queste persone allora qua viene imparare i nostri maestri ci insegnano che anche nella nostra vita dobbiamo ricordarci non è importante cosa tu abbia fatto è importante che se tu veramente vuoi tornare indietro vuoi riparare la tua vita Hashem è lì che ti dice ok ti aiuto a tornare indietro ovviamente questa è una cosa che bisogna avere tanto coraggio interiore perché molte volte le persone si demoralizzano molte volte le persone non credono abbastanza nelle proprie capacità non credono abbastanza quanto la loro anima sia veramente elevata perché una cosa che ripetiamo tante volte la nostra generazione abbiamo una pecca cosa quella di non credere abbastanza in noi stessi in noi stessi vuol dire nelle nostre capacità interiori nella nostra capabilità ma specialmente non conosciamo e non crediamo nella potenzialità e nella forza della nostra anima Hashem ci ha dato un'anima anima che cos'è è una parte di Dio la nostra anima nient'altro che un pezzo di Dio che è dentro di noi allora quando noi guardiamo noi stessi allo specchio non dobbiamo vedere la nostra persona dobbiamo vedere Dio dobbiamo vedere divinità dobbiamo vedere questa anima di Dio che si investe dentro di noi e ci dà la possibilità di riuscire ad arrivare sempre in alto invece noi cosa pensiamo guardiamoci guardiamo allo specchio e vediamo una persona carne e ossa una persona limitata e cosa diciamo come faccio io una persona così limitata che per tutta la vita ho guidato contro senso sono andata dalla parte sbagliata di colpo mi si dice puoi tornare indietro ma io non ci credo non ci credo che io sono capace di tornare indietro non ci credo che Dio possa possa perdonarmi ecco questo è un grande peccato che noi facciamo noi non crediamo che noi possiamo cambiare la nostra vita perché perché dimentichiamo che Dio è dentro di noi e cosa facciamo ancora noi non crediamo che Dio può perdonare com'è possibile che io con tutto quello che ho fatto nella mia vita con tutti i peccati che ho fatto a volte ero cosciente a volte non ero cosciente a volte l'ho fatto apposta a volte no ma com'è possibile che esista un Dio così buono così magnanimo che mi perdona di tutto quello che ho fatto e a volte l'ho fatto anche apposta la risposta è sì Dio perdona non guardiamo noi umani che magari a volte perdoniamo con difficoltà Dio è Dio della misericordia Dio è il Dio del perdono Dio è il Dio dell'amore ogni genitore ogni padre ogni madre quando il figlio sbaglia vuole che il figlio torni indietro vuole che il figlio prenda la sua vita in mano e aspetta anche se magari lo sgrida ma lo sgrida per educarlo perciò il punto di Pesach c'è nì è non pensiamo mai non confondiamoci mai dal pensare che Dio possa mai essere arrabbiato con noi noi a volte diciamo Dio sicuramente è arrabbiato con me con tutto quello che ho fatto conto di Lui come fa a non esserlo no noi dobbiamo smettere di vedere Dio con il nostro modo umano limitato noi dobbiamo vedere Dio con gli occhi di Dio e non con i nostri occhi Dio è un Dio al di sopra di tutto non è un Dio che non perdona non è un Dio che ce l'ha con noi che ha arrabbiato con noi è un Dio che vuole semplicemente che i suoi figli che le sue creature salgano migliorino e possono arrivare ad avvicinarsi sempre di più a Lui certo a volte Dio si arrabbia con noi perché noi non ci comportiamo bene questo è naturale ma più che altro non direi rabbia ma direi che Dio intanto è dispiaciuto dal nostro comportamento Dio ama tutti i suoi figli semplicemente a volte gli dispiace che noi ci allontaniamo da Lui ma da lì a dire che Dio non ci perdona no questo proprio proprio no Pesach Sheni ci insegna non è mai tardi la situazione non è mai così grave dal poter pensare io non ce la posso fare storia che ha a che fare ancora con Pesach Sheni c'era questo grande Rabbi si chiamava Rabbi Simcha Bunim lui un giorno incontra questo ebreo non particolarmente osservante e cerca un attimo di accendere il suo cuore con parole di Torah ma vede che questa persona qua non le dà retta le sue parole non hanno non trovano dove appoggiarsi non trovano e allora lui dice cambio tecnica cambio tattica lo sfido a scacchi questo rabbino era un grande giocatore di scacchi ha detto sai cosa ti sfido a scacchi ok ci sto questa è una storia vera cominciano a giocare a scacchi a un certo punto il Rabbi comincia a comportarsi in un modo assai strano se non anche irritante per il suo sfidante cosa faceva prendeva il pedone diceva faccio questa mossa poi diceva ah no 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 faccio quest'altra mossa no 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 invece voglio fare quest'altra mossa faceva un po' infastidire la persona e cosa faceva anche faceva delle cose che era un conto la regola prendeva il pedone in mano e lo appoggiava in un certo posto lo metteva giù toglieva la mano e poi dice ah no 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 lo riprendeva un conto è dire quando lo tengo in mano finché lo tengo in mano posso ancora cambiare idea ma la regola dice che se io ho appoggiato il pedone e ho tolto la mano basta non posso più cambiare la mia mossa quello che hai fatto è fatto allora a un certo punto questo ebreo lo sfidante dice rabbi non è questo il modo di giocare devi seguire le regole se tu hai fatto una mossa non puoi tornare indietro se hai appoggiato il pedone basta non puoi più toccarlo quando il rabbi si sente dire questa frase qui gli fa un sorriso che scioglie tutti i ghiacciai e con un veramente con tanto amore con un sorriso veramente dolce gli dice dimmi ma tu nella tua vita non hai mai fatto dei passi falsi delle mosse sbagliate riusci sicuramente certo che lo fate lui dice vedi la differenza tra le regole dei scacchi e la regola di Dio e la regola della Torah è questa nei scacchi sì tu hai ragione se io faccio una mossa non posso più tornare indietro da Dio non è così da Dio vince la regola che anche mille volte se una persona ha spostato la sua vita e si è allontanato da Dio ha fatto una posizione una mossa qualcosa sbagliata da Dio si può sempre tornare indietro non è come nei scacchi che è una regola fissa perciò tu avevi ragione e tra parentesi lui l'ha fatta apposta lui sapeva le regole l'ha fatta apposta per arrivare a poterle dire questa frase e ci è riuscito il morale di questa storia è che nella vita uno può sbagliare siamo umani siamo qui anche con la clausola che si può sbagliare ma non facciamo uno sbaglio sullo sbaglio ovvero di pensare che se io ho fatto questa mossa basta ormai se io sono incanalato in questa strada vuol dire che per forza tutta la vita devo continuare a fare questi sbagli o queste trasgressioni dici a Torah no non vuol dire che se tu l'hai fatto devi continuare a farlo no ogni persona deve avere la forza d'animo di prendere se stesso in mano e dire anche se ho sbagliato posso tornare indietro perché? perché dentro di me ho un'anima divina che mi dà la forza io vado con la forza di Dio non sono da solo con la forza di Dio che dentro di noi che ci dà la possibilità di tornare indietro e anche di riparare qualsiasi cosa sbagliata abbiamo fatto e questo dove lo vediamo? proprio in Itro Itro era suocero di Mosè sappiamo che Itro all'inizio era era un grande idolatra era considerato come importanza come era noto e famoso per dire oggi come il Papa lui all'epoca era conosciuto in tutto il mondo per le sue per la sua idolatria proprio come oggi il Papa è conosciuto per quello che lui rappresenta tutti lo conoscevano per essere la persona di culto più grande del paganesimo cosa è successo? quando lui ha ha visto quello che Dio i miracoli che Dio ha fatto agli ebrei per portare fuori con le piaghe l'apertura del mare le grandi allora lui ha capito che finora tutte le varie idolatrie che lui aveva professato ha capito che in realtà non valgono niente e allora ha ammesso davanti a tutto il mondo davanti a tutti i suoi seguaci lui cosa ha fatto? si è convertito lui ha accettato la Torah in totale e ha detto ho sbagliato adesso capisco che c'è un solo Dio e non che ci sono tanti idoli non ha avuto vergogna davanti al mondo intero di dire che ha sbagliato ma non soltanto ha avuto la forza ha avuto il coraggio di prendere la propria vita e a 360 gradi cambiala per tornare verso la verità perciò lui ha meritato che la parasha che parla dei dieci comandamenti a nome di di Itro non di Mosè ma di Itro per dire che ogni persona anche chi va più lontano più in basso può sempre rifarsi una vita e tornare da Hashem e questo è quello che noi abbiamo passato questa settimana Pesach Sheni oggi è oggi è l'Agba Omer l'Agba Omer è il 33esimo giorno dell'Omer uno dei giorni più importanti dell'anno tra l'altro è un giorno così santo così potente che i maestri ci dicono che noi possiamo chiedere a Dio in questo giorno ogni giorno noi dobbiamo parlare con Dio e chiedere a Dio ma sono certi giorni che sono più diciamo hanno una forza superiore e noi dobbiamo usare questa forza uno di questi giorni è proprio oggi il 33esimo l'Agba Omer che noi possiamo chiedere a Dio qualsiasi forma di benedizione privata personale collettiva per i malati per chi ha bisogno di qualsiasi benedizione questo è il momento di chiedere a Dio di portare la salvezza alle persone è il giorno dove i 24.000 allunni di Rabiachiva hanno smesso di morire vi ricordate ogni anno ne parliamo ed è il giorno che è mancato il grande Rabi Shimon Bar Yochai che era colui che ha portato la Kabbalah al mondo e grazie a lui che oggi noi studiamo la Hasidut tutto deriva dalla Kabbalah perciò questo è il giorno che lui è mancato ovviamente nel giorno della dipartita di un Saddi che è un giorno molto importante un giorno molto molto santo e porta tanta benedizione a tutti noi c'è un Midrash nel Cantico dei Cantici che già una volta abbiamo toccato questa storia che andrò a raccontare adesso l'abbiamo una volta già analizzata ma adesso entreremo ancora un po' più in profondità e racconta così all'epoca appunto di Rabbi Shimon Bar Yochai che appunto stasera era sua dipartita lui era il Saddi di quella generazione là una coppia che erano sposati da più di dieci anni vanno da lui e dicono sono ormai dieci anni che siamo sposati e non siamo riusciti ad avere figli allora noi veniamo qua da te a chiedere di darci il divorzio perché la Torah dice c'è una regola nella Torah per la quale se una coppia sono sposati appunto per più di dieci almeno dieci anni e non riescono ad avere figli allora se loro vogliono possono decidere di divorziare in modo da per poter magari procreare avere figli magari uno dei due non riesce a avere figli l'altro sì magari tutti e due possono avere figli ma non insieme succede anche questo che insieme non possono avere figli ma magari sposandosi possono tutti e due avere figli e succede anche questo e allora la Torah dice se loro vogliono la Torah dà il permesso di rifarsi una vita per avere altri figli e così succede passano dieci anni loro non riescono a avere figli e malincuore a malincuore vanno da Rabbi Shimon a dire per favore organizza il nostro il nostro divorzio Rabbi Shimon dice va bene prima di divorziare però voglio che voi divorziate nel stesso modo con cui vi siete sposati ovvero quando vi siete sposati avete fatto una grande festa balli cibo musica nello stesso modo dovete divorziare fate questa festa qua e poi tornate da me e io scriverò per voi il vostro divorzio e così succede organizzano questa festa arriva la fatidica sera della festa loro vanno bevono vino mangiano ballano proprio come un matrimonio e lui e la donna continuano ad andare da bere da bere al marito e il marito dopo un po' perde il controllo si ubriaca non è più se stesso e dice alla moglie guarda loro comunque poverini si volevano bene si amavano semplicemente volevano avere dei figli dice guarda era una persona benestante dice prendi la cosa qui in casa nostra prima che domani andiamo a divorziare prendi qua quello che vuoi la cosa che ti più cara che ti piace di più la cosa di più valore prendi quello che vuoi è tuo detto questo lui si addormenta perché era ubriaco ok si risveglia dopo qualche ora dove a casa di suo suocero papà della moglie si risveglia ma cos'è che faccio qui dentro perché sono qua e lei dice a suo marito tu hai detto prendi l'oggetto più prezioso che c'è e io l'ho fatto tu per me in tutto quello che c'era in quella casa sei l'oggetto sei la cosa più preziosa che io posso mai avere allora ti ho portato a casa di papà perché ti voglio per me quando il marito ha sentito questo ovviamente potete immaginare che che emozione che ha avuto a sentirsi dire una frase così bella dalla propria moglie loro insieme tornano da rabbi shimon bar yochai e a questo punto dicono non vogliamo più divorziare piuttosto ti chiediamo rabbi prega per noi che noi riusciremo ad avere un figlio perché questo è quello che noi in realtà vogliamo e cosa succede che rabbi shimon prega per loro e in effetti nasce un figlio allora dicono i maestri una cosa molto interessante dicono guarda una frase di amore detta uno da un umano all'altro sei la cosa più preziosa che c'è in questa casa riesce a portare così tanto beneficio e benedizione che li rimette insieme che i loro cuori si saldano di nuovo uno all'altro che riescono ad avere un altro figlio dice figurati maestri dicono figuriamoci se anche noi dovessimo dire le stesse cose a Dio Dio tu per noi sei la cosa più preziosa al mondo Dio quanto ti amiamo Dio quanto siamo grati di quello che ci dai allora guardiamo qua dicono maestri guardiamo queste parole dette verso Dio quanto più benedizione potrebbero portare anche su di noi se tra due umani ha portato tanta benedizione perciò pace e un figlio diciamo tra un umano e Dio quanto di più potrebbe portare benessere a tutti noi perciò impariamo anche noi a esprimere i nostri sentimenti con Dio di parlare con Dio e dire Dio ti amiamo grazie di tutto quello che fai per noi e anche se ogni tanto magari ci comportiamo nel modo non giusto perdonaci perché in realtà il nostro cuore è soldo con te la domanda dopo questa bella storia la domanda logica che viene a tutti è se Rabbi Shimon Bar Yochai poteva aveva questa forza di benedire le persone e potessero avere un figlio perché non le ha benedette a priori se tutto il problema qua era avere un figlio che questo poteva arrivare al divorzio perché non gli hai benedetti subito di poter avere un figlio così evitava tutta la storia per rispondere a questo quesito molto logico andiamo un attimo nel libro del Tania il l'autore del Tania il Bala Tania dice che avere figli nel Tania avere figli è ovviamente figli fisiologici ma ci sono due cose che vengono chiamati i nostri figli che cosa sono amore e timore per Dio amore e timore nel linguaggio cabalistico del Tania è considerato i figli di una persona ciò che una persona riesce a avere con Dio amore e timore amore ovviamente è amare Dio timore non è paura come tanti sbagliano ma timore è sì paura di sbagliare paura di 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 tradire le aspettative di Dio sì paura di offendere Dio sì ma non paura di Dio è una forma di onore di rispetto di riverenza verso Dio che si chiama timore timore del sbaglio allora dice il Tania un figlio visto che parliamo di figli qua cos'è un figlio di una persona quando tu riesci ad avere amore e timore per Hashem nel tuo rapporto con Dio adesso qua dice che a volte ci sono delle persone che vogliono amare Dio vuol dire avere questo figlio con Dio ma non riescono non trovano nel loro cuore abbastanza non riescono a trovare amore per Dio perché per amare Dio bisogna un po' conoscerlo bisogna studiare la Torah bisogna vedere conoscendo quando due persone si innamorano perché si innamorano perché si conoscono si parlano si capiscono l'un l'altro allora pian piano nasce l'amore allora quando una persona vuole amare Dio ma non ci riesce è perché non conosce ancora Dio allora deve studiare tanta Torah per arrivare ad accendere il suo amore allora qua dice a volte noi anche vorremmo avere questo figlio con Dio amare Dio ma non ci riusciamo perché ci mancano gli strumenti non capiamo quanto Dio è grandioso da poterlo amare allora cosa bisogna fare per avere questo figlio questo amore per Dio allora riprendendo il Midrash che abbiamo appena detto di Rabbi Shimon Mariochai che cosa succede che ne esce che per il divorzio che quel divorzio lì che loro volevano fare diventa in realtà diventato il loro matrimonio perché Rabbi Shimon ha detto voglio che divorziate con un matrimonio con una festa lui aveva chiaramente in mente questo punto lui sapeva che loro non avrebbero divorziati voleva semplicemente che tramite la gioia di questo matrimonio come in effetti è successo i loro cuori potessero di nuovo connettersi uno con l'altro perché la gioia ricordiamoci la gioia porta amore tra le persone quando una persona è gioiosa vedete molte volte c'è un matrimonio tutti si ballano tutti insieme anche se c'è un qualcuno che magari ho un qualcosa verso di lui di negativo ma quando sono gioioso e sto ballando e sto festeggiando non sto a pensare al male che ho da questa persona perché la gioia fa dimenticare tutto la gioia eleva una persona allora qua dice che ne esce che il divorzio che loro volevano fare in realtà diventa un matrimonio che cambia la loro vita ed è questo il motivo che Rabbi ha detto fate una festa per divorziare perché lui non voleva che divorziassero voleva arrivare al punto che la gioia del matrimonio riaccendesse il loro amore che era semplicemente un po' nascosto dentro di loro infatti cosa succede? dopo un anno nasce un bimbo giusto? questo stesso concetto che il Tanya ci insegna che il Midrash che abbiamo parlato poco fa ci insegna che cosa ci insegna? che anche noi ogni giorno dobbiamo risvegliare il nostro amore con Hashem cos'è il parallelismo? è che ogni buona azione che ogni persona fa in questo mondo se lo fa con gioia con vigore cosa succede? la tua mitzvah causa che anche Dio possa avere gioia e vigore ovviamente quando Dio vede che noi facciamo le buone azioni lui gioisce di questo allora dice qua anche se in realtà ognuno di noi ha delle trasgressioni pecca e sbaglia ma in realtà siamo tutti pieni di mitzvot e dentro di noi in realtà siamo tutti santi allora cosa succede? che quando noi portiamo Hashem giù vicino a noi cosa succede? facendo una mitzvah noi ci riappacifichiamo con Hashem proprio come il marito e la moglie che lui aveva perso i sensi e poi il loro amore è cresciuto al massimo perché con una buona parola lei è riuscita a riportarlo di nuovo a rafforzare il loro amore perciò è appunto lo porta a casa la morale che cos'è? che a volte sembra anche noi noi ci sentiamo che stiamo divorziando da Dio che ci stiamo allontanando da Dio che non riusciamo ad amare Dio che non capiamo Dio o che Dio non capisce noi o che Dio non ama noi perciò ci sentiamo distaccati da Dio siamo lontani ma in realtà con una piccola mitzvah che noi facciamo possiamo riconnetterci con Hashem come quella coppia erano quasi divorziati ma i loro cuori si sono riaccesi perché perché lei ha detto una bella parola verso lui e lui si è risvegliato di amore per lei e così anche noi una piccola azione una piccola preghiera una piccola messa che noi facciamo può veramente ricollegare ricreare magari questa connessione che si è un po' rotta tra noi e Dio tramite piccoli gesti di far vedere a Dio quanto in realtà lo amiamo anche se magari non abbiamo dei grandi strumenti ma noi ti amiamo ad approfondire il cuore allora questi segnali queste parole queste cose che noi facciamo riescono a a riconnetterci con con Hashem così come appunto la moglie dice ti voglio bene ti amo e così via perciò anche noi dobbiamo volere Hashem come lei lei voleva il marito e basta lei voleva suo marito anche noi dobbiamo volere Dio non per ricevere qualcosa indietro noi dobbiamo imparare ad amare Dio per essere connessi con Dio allora tornando alla storia il balatagna il tania scrive che a priori ovviamente non bisogna divorziare da Dio così come non bisogna divorziare dalla moglie cioè non bisogna arrivare a divorziare dalla moglie per capire quanto ti amo in quel momento il rabbi ha fatto questo sotterfugio per far capire a loro due che in realtà c'è ancora tanto amore che si era un po' affievolito a causa del bambino però poi il bambino è arrivato perché? perché l'amore si è riacceso qua il tania ci vuole insegnare che anche noi non dobbiamo arrivare a divorziare da Dio per capire quanto lo amiamo anche se a volte ci sentiamo distaccati da lui ma non per forza divorziare veramente staccarci del tutto per capire perciò cosa succede? nel caso del marito e moglie questo distacco ha portato a un collegamento ancora superiore di prima perché? perché loro hanno scelto e hanno voluto nuovamente sposarsi uno con l'altro l'hanno scelto di nuovo molte volte una rottura tra due persone o tra uomo e Dio può riportare a un collegamento ancora più profondo quando due litigano molte volte poi quando fanno pace fanno una pace molto più sensibile molto più forte di prima e si connettono molto di più questo lo possiamo trovare tra amici tra marito e moglie tra padre e figlio e così via a volte un litigio un distacco in realtà può portare a un attacco ancora più forte perciò qua dice loro cosa hanno fatto? hanno scelto hanno voluto nuovamente l'un l'altro ed è questo ha scaturito grande amore che ha scaturito finalmente la nascita di un figlio anche materiale biologico fisiologico perciò volere appunto divorziare li ha portati a un matrimonio profondo e così anche noi quando a volte noi vediamo che stiamo sbagliando la nostra vita con Hashem ci allontaniamo però poi se facciamo Teshuvah come Pesach Shenni ci viene a insegnare che non è mai tardi che si può sempre riparare allora questo ci porta ancora più vicini ad Hashem perciò questa storia qua ci insegna non devi per forza divorziare ma anche soltanto l'idea che ti stai allontanando da Dio questa idea stessa ti può fare tornare a Dio con tanto tanto più vigore e amore per Hashem arriviamo adesso alla storia che Rabbia Chiva abbiamo detto che Rabbia Chiva aveva questi 24.000 studenti che sono morti tutti nel periodo tra Pesach e nei 33 giorni sono morti 24.000 perché il Talmud dice ne abbiamo parlato diverse volte che loro non davano abbastanza kavod onore l'un l'altro non che non avevano amore sicuramente che si amavano l'un l'altro però però loro non erano capaci di lasciare spazio ai pensieri dei loro compagni ognuno di loro voleva imporre il suo modo di come capire la Torah di come studiare e così via allora questo era lo sbaglio loro sicuramente si amavano ma non non capivano che per loro cos'era io ho ragione e tu devi seguire soltanto me invece di capire che forse anche il tuo amico ha ragione e così via ognuno voleva imporre la propria ragione il proprio modo di vedere al resto dei compagni cosa succede? succede che Rabbia Chiva la domanda è lui con tutti gli sforzi che ha fatto con tutto quello che ha studiato è riuscito a avere 24.000 studenti nel corso degli anni e tutti sono morti in 33 giorni è una cosa peggiore che possa capitare a un maestro di perdere tutti i discepoli come è possibile che lui dopo che sono morti che erano come se fossero i suoi figli spirituali come è possibile che lui è riuscito a a rimettersi in piedi e a rifarsi una vita dopo che 24.000 figli o discepoli sono morti come ha fatto a coglia a resistere a questo grande colpo cosa succede? l'ultimo giorno della morte era appunto il 33esimo oggi e lo stesso giorno lui quando questa morte questo virus che c'era che moriva questa pandemia che c'era era finita lui quel giorno lì non il giorno dopo lo stesso giorno che c'era la pandemia cosa succede? lui è andato a cercare alunni di nuovo per ricreare il suo entourage di studio e di insegnamento perciò finché c'era la pandemia c'era la pandemia finita la pandemia lui ha detto devo ricreare tutto quello che avevo finora ed è andato a cercare nuovi alunni a cui insegnare nuovi discepoli perciò cosa succede? tornando a rabbia chiva è vero che il 33esimo giorno noi festeggiamo la fine della pandemia ma in realtà oggi che cos'è? noi festeggiamo l'inizio della vita fine della pandemia vuol dire inizio della vita lui è andato ha trovato 5 alunni su cui lui di nuovo ha ricostruito tutto il suo impero di studio di Torah e così via perciò lui il fatto che si è ripreso non vuol dire che il passato è stato cancellato no al contrario il fatto che sono morti 24.000 dei suoi alunni da quella cosa così dura ne fa una forza perché la Torah ci insegna da tutte le cose che noi sbagliamo le cose difficili da quello dobbiamo creare una forza nuova e perciò lui il suo passato gli ha fatto dare la forza di andare avanti e credere ancora nell'idea di studiare e di insegnare la Torah Rabbi ha capito che il male non è fine a se stesso è uno strumento in mano di Hashem per il bene è vero 24.000 sono morti tantissimi gravissimo ma questa cosa era uno strumento che Hashem che ha in mano per portare un qualcosa per portare ad andare avanti e migliorare sempre più perciò per spronarlo al maestro a fare ancora di più a volte purtroppo nella vita bisogna passare difficoltà e distruzione per poter dare il nostro meglio e come appunto la storia che Rabbi Akiva con i suoi amici erano il Talmud racconta dopo la distruzione nel santuario c'era una grande tristezza ovviamente il santuario distrutto era una cosa che non si poteva vedere allora lui vede tutto il santuario dissacrato e vedono una volpe la famosa storia del Talmud una volpe uscire dal santo dei santi che era il posto dove il Kohen in sacerdote poteva entrare soltanto una volta all'anno di Kipur perciò il posto più santo che c'era che il Kohen poteva entrare una volta all'anno loro cosa vedono? un animale una volpe che esce vuol dire il massimo del degrado che un animale impuro tra l'altro esce da un posto così santo e allora cosa succede? tutti cominciano a piangere e invece Rabbi Akiva cosa fa? ride e gli chiedono ai suoi amici perché stai ridendo? come fai a ridere con questa tristezza di come siamo caduti in basso? perché lui Rabbi Akiva vedeva già il futuro roseo e non il disagio di adesso lui capiva che ogni cosa di male porterà qualcosa di bene è già bene allora lui si è vero vedere una volpe che esce dal santuario è triste ma lui andava già un passo avanti lui vedeva già il futuro che porta qualcosa di buono la chiederebbe va bene va bene che tu ridi per il futuro ma oggi in questo istante che tu vedi una volpe è una cosa triste perché lui in verità non vedeva che il futuro sarà bene bensì lui vedeva che questo già è l'inizio del bene è una cosa molto difficile da fare non vabbè c'è una cosa di male vuol dire che verrà qualcosa di bene no c'è qualcosa di male questo stesso male è già l'inizio del bene la fine della pandemia che cos'è è l'inizio di una vita nuova il male è qualcosa che porterà a crescere ancora di più quando noi per esempio ariamo la terra arare la terra cosa c'è è distruzione stai bucando arando rovinando la terra però poi cosa fai questo in realtà è l'inizio della crescita perché poi semini è vero che hai distrutto la terra però poi semini e questa distruzione porta alla crescita perciò vedere il vantaggio di ogni difficoltà quando Hashem tra virgolette punisce o fa difficoltà nella nostra vita in realtà non ci sta punendo in realtà ci sta ingrandendo ci sta rafforzando e per questo che Rabbi Achiva è riuscito a ricostruire come gli ebrei quando erano nell'Egitto c'è scritto che più venivano martoriati e più crescevano di numero più si aumentavano perché? perché questa è la natura dell'umano più ci picchiano e più cresciamo perciò anche Rabbi Achiva ha visto direttamente vedeva che già questa cosa negativa di per sé già è l'inizio di una nuova era di un nuovo momento di benedizione ecco queste due cose che stasera abbiamo studiato devono in verità farci sentire quanto tutto quello che succede è divina provvidenza è tutto un disegno di Hashem il fatto che possiamo tornare indietro e rifarci una vita vuol dire che Hashem ha già destabilito questo ha decretato questo Hashem ci ha dato gli strumenti di potere fare questo quando vediamo che una distruzione non soltanto che porterà a una ricostruzione ma alla distruzione in sé e l'inizio di una costruzione vuol dire che nella vita anche ci può succedere che una persona passa dei momenti che si sente distrutto allora quando ci sentiamo distrutti dobbiamo capire che Hashem in questo momento ha dei piani per noi Hashem vuole da noi ricostruire un qualcosa di nuovo tutto questo che abbiamo studiato deve darci la forza e il coraggio di credere in noi stessi di credere in Dio di credere nelle potenzialità che noi abbiamo e di capire che non c'è niente al mondo che possa fermare una persona da volere rifarsi una vita è il nostro diritto se non dovere volere rifarsi una vita quando una una persona ci crede che lui può veramente avere una vita migliore sicuramente come Rabia Chiva riuscirà a vedere che proprio la difficoltà è l'inizio di una nuova vita Shabbat cero ma tutti chiediamo per favore di condividere questa lezione Shabbat shalom musica Aymos Grazie per la visione!